Siamo qui a Fiera di Roma con Cristina di Moto.app. Cosa puoi dirci della giornata del Moto Days? Allora, siamo qui a Moto Days per promuovere e presentare la nostra app, che è una app per i tracciamenti in moto. Siamo nella fiera dedicata alla mobilità urbana. La nostra app è utilizzata principalmente da scooteristi, quindi utilizzatori del motociclo, principalmente anche in città e nelle città di residenza. Quindi ci sembrava doveroso essere qui per presentare l'app e soprattutto i nuovi aggiornamenti che ci saranno durante tutto il 2019. Dove possiamo trovarvi? Avete dei social? Certo, potete seguirci sia su Facebook che su Instagram. L'hashtag è moto.app, il profilo è moto.app, scritto proprio per esteso. Il sito è www.moto.app, li potete trovare tutte le informazioni sia sull'applicazione che sugli eventi che facciamo durante tutto l'anno. Grazie mille. Grazie mille.